Qui invece abbiamo mia zia, una vera satanata di cazzo. Lei ama scopare con i ragazzi molto giovani, soprattutto con suo figlio. La verità è che la mia è tutta una famiglia di depravati e noi ne siamo le vittime. E non possiamo neanche ribellarci, ma a volte tutto questo ci piace. Questa è la verità. Sì? Pronto Monica? Io sono Manuel, un amico di Roby. Mi piacerebbe tanto conoscerti. Anche a me. Bene. Quando posso venire? Anche subito. Ok. Dove devo venire? Via Porta Nuova 3, Citofonale 101. Mezz'ora e sono da te. Ti aspetto. Permesso? Avanti, avanti. Mamma! Manuel! Mamma! Non sapevo che facevi la puttana! Non sapevo che... Grazie.